Un ragazzino e un piccolo imprenditore, due insospettabili, sono finiti nel minino dei carabinieri dopo il blitz antidroga del fine settimana nella marca. I militari dell'arma hanno controllato i locali della movida della provincia. Le operazioni hanno portato all'arresto di 5 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Tra il materiale è sequestrato 40 grammi di cocaina in ovoli e 300 grammi tra hashish e marijuana. Diverse le persone segnalate alla prefettura perché trovate a consumare lo stupefacente. Cerchiamo di mettere in campo sempre il maggior numero di forze possibili per garantire controlli e quindi sicurezza per tutti i cittadini, sia per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio che per reprimere anche quelle che sono le attività di spaccio più frequente. Tra i fermati da parte dei carabinieri un giovanissimo, uno studente sedicenne di Montebelluna, arrestato a San Biagio di Callalto alle 5 del mattino all'esterno di uno dei locali della movida notturna. Il giovane era da tempo tenuto sotto controllo dai militari dell'arma dopo le segnalazioni di alcuni coetanei trovati in possesso di marijuana. Sabato sera nello zaino del ragazzo sono stati trovati 82 grammi di erba suddivisi in 100 dosi. Già da qualche tempo c'era l'attenzione su questo giovane di cui si aveva il sospetto che avesse un'attività di spaccio e quindi questo ha consentito agli investigatori di stringere il cerchio intorno a lui. A finire nei guai anche un piccolo imprenditore di 31 anni residente a Nervisa della Battaglia. L'uomo a causa della crisi aveva deciso di spacciare per cercare di arrotondare. Ultimamente infatti la sua attività non andava più benissimo. I carabinieri hanno trovato nella sua casa 150 grammi di asci suddivisi in dosi e 100 grammi di marijuana. E nel centro di Cairano San Marco i carabinieri hanno trattato in arresto tre persone. Uno di loro stava cedendo a un trentenne trevigiano una dose di cocaina. L'uomo ha poi confessato ai militari dell'arma che da due anni acquistava la coca in quella zona dallo stesso pusher e aveva speso più di 12.000 euro per lo stupefacente. Grazie, sottolino le segnalazioni dei cittadini. Siamo potuti intervenire e interrompere un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina proprio nel centro di Cairano San Marco. Dove sono stati in pochi giorni, nemmeno in 24 ore, arrestati una coppia di coniugi e un altro cittadino connazionale originale tutti del Marocco.